Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Aria di origine artica conquisterà nelle prossime 48 ore il bacino del Mediterraneo, apportando un sensibile peggioramento del tempo sul territorio italiano. La depressione artica ci accompagnerà nei prossimi giorni, apportando anche un sensibile calo delle temperature, con un clima dai sapori tardo-autunnali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 19 settembre. Al mattino, molte nubi sulla Puglia settentrionale e sulla Basilicata occidentale, con locali rovesci a carattere sparso su Gargano, Tavoliere e Potentino settentrionale. Sul resto delle regioni splenderà invece il sole. Nel corso del pomeriggio ancora possibili locali rovesci su Gargano, Tavoliere e Potentino. Nubi sparsi ai locali addensamenti su Materano, Batte e Barese, ma con bassa probabilità di fenomeni. In serate invece migliore il tempo su Tavoliere, rovesci temporaleschi insisteranno invece sul Gargano. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, che risulteranno in ulteriore calo di 1-2 gradi, sia nei valori massimi che minimi, più marcato sulla Puglia settentrionale, colpita dai rovesci. Entrosera il calo più marcato con valori minimi, prossimi agli 11-13 gradi, interesserà a tutte le zone. Venti moderati dai quadranti occidentali, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali entrosera. Per quanto riguarda i mari, invece, motondosi in aumento ovunque, in modo particolare l'Adriatico. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro amico Luigi Marzo, per questa spettacolare mareggiata immortalata dal litorale di Santa Maria al Bagno, in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.